Gran bel match in serie D, quello tra Shuffle Team di Capitan Bortone e Maya Blu Stile Barsa contro i Galacticos Il kit Barsa si chiama Galacticos di Manuel Torre, reduci da una gran vittoria nello scorso turno Attenzione qui la traversa, colpita da Corsini che torna nelle retrovie Destro di Corsini, Manuel Torre sarebbe stato battuto, va adesso a rinvio Sfortunati qui i Blu, attenzione Lullo Casalini, prova l'imbucata Ferma tutto la retroguardia dei Blu, poi Lullo Casalini, ancora lui E' solo il miracolo di dialetto che ipnotizza il numero 22, Maya Bianca Ancora lui va a recuperare palla, c'è forse un fallo Calcio di punizione per i bianchi e così Con il match che si fa vivo in questa fase Bortone qui protesta fuori per la rotazione Seguiamo questo calcio di punizione sulla palla Santoro e Casalini Santoro fresco, miglior giocatore della settimana in serie D Dialetto sistema i suoi due uomini in barriera Andrà Santoro con il destro, la mette a giro, barriera piena Palla in calcio d'angolo Seguiamo questo corner con Casalini Casalini la vuole giocare vicino, poi la mette dentro per Santoro Che di punta anticipa tutti, ma trova soltanto l'esterno della rete Fondo e fondo batte il portiere Dialetto può andare al rinvio, quante emozioni in questa fase di gioco Squadre fresche, giovani che vogliono la vittoria Lungo il rinvio in avanti Non c'è nessuno però, soltanto Manuel Torre Che con calma lascia che il pallone si spenga sul fondo Può andare adesso al rinvio, il miglior portiere dello scorso torneo estivo Lungo in avanti, di testa ancora la retroguardia degli shuffle Protegge palla Minna in fallo laterale Ha stato buono l'intervento di Carofalo Che però poi non è riuscito a servire un avversario Stesso Minna, la gioca per Santoro Prova, attenzione, il tiro, il miracolo di Manuel Torre Che parata, la palla qui forse è uscita C'è stato qui un errore di Casalini che ha favorito Barra Nuovo acquisto degli shuffle che a tu per tu non è riuscito a far gol Seguiamo l'ultima azione prima di chiudere il collegamento La palla per lo shuffle team Rimpallata, Casalini mezzo a due Allarga bene per Orlandi Lungo linea ancora Orlandi Lungo in avanti, attenzione, può uscire di aletto Fa la palla sua con un brivido 0-0 tra shuffle team e Galacticos E chiudiamo qui il nostro collegamento Eccoci con i Galacticos al completo quasi La vittoria per 3-0 contro lo shuffle team 3-0 i migliori sono Torre e Santoro Sentiamo una dichiarazione di Capitan Torre Seconda vittoria consecutiva, Manuel E' una partita facile da parte all'inizio Però abbiamo riuscito a spaccare il stato E il primo tempo è per fare rigore nel secondo Dove non abbiamo proprio sofferto Passiamo adesso a Santoro Altre giocate di gran classe oggi Dopo il migliore della settimana Ti confermi il migliore in campo Dove vuoi arrivare? No, dobbiamo vincere il torneo E poi magari vincere qualcosa personalmente Va benissimo allora ragazzi In bocca al lupo e complimenti Ciao Grazie a tutti